Sara Manfuso Sara Manfuso è una delle nuove concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nella vitra è opinionista e giornalista freelance per diverse testate. Nel mondo della cronaca rosa è nota per il matrimonio con il politico Andrea Romano. Quella nel Grande Fratello Vip è la sua prima partecipazione all'interno di un reality. Debutta all'interno della casa durante la prima puntata andata in onda il 19 settembre 2022. Nome e cognome, Sara Manfuso. Luogo di nascita, Cassino, Frosinone. Data di nascita, 26 agosto 1984. Età, 38 anni. Peso, non disponibile. Altezza, non disponibile. Professione, opinionista. Segno zodiacale, vergine. Sara Manfuso inizia la sua carriera come modella, ma con il passare degli anni si appassiona alle tematiche politiche. Diventando inviata per la televisione e la radio. E anche un'opinionista televisiva è quella del Grande Fratello Vip è la sua prima esperienza in un reality show. Ha fatto il suo ingresso nella casa durante la prima puntata. In passato l'opinionista è stata legata ad Alfredo Dattore, professore universitario e politico. Dalla loro unione è nata la sua unica figlia che oggi ha nove anni. Successivamente si è sposata con Andrea Romano, anche lui politico, storico e accademico italiano. I due decidono di convolare a nozze in gran segreto e solo successivamente rilasciano le foto esclusive della cerimonia matrimoniale al settimanale oggi. Sara Manfuso ha un profilo Instagram seguito da quasi 20,000 follower. Compost e storie racconta principalmente le vicende che riguardano la sua vita professionale e privata. Durante una puntata del programma radiofonico I Lunatici, Sara Manfuso racconta di aver subito un episodio di violenza sessuale quando aveva 17 anni. Frequentava il liceo e mentre tornava da scuola, sotto casa trovò una persona. Che la violentò in pieno giorno nell'androne delle scale. Come da lei raccontato, nonostante le urla nessuno uscì per prestarle soccorso. L'uomo che abusò di lei venne denunciato, ma le forze dell'ordine non sono mai riuscite ad arrestarlo. Vista anche la vicenda che l'ha vista coinvolta, l'opinionista è la presidentessa dell'associazione Io Così. Chi si occupa della difesa dei diritti delle donne? Attraverso diverse interviste ha raccontato la sua personale vicenda. Anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. Anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema.